La questione è molto dibattuta e se vuoi un mio punto di vista, il tempo in effetti è una convenzione, non esiste di persone, ciò che esiste è il mutamento, il mutamento di ogni cosa e quindi noi introduciamo questa convenzione del tempo. Noi sosteniamo di ricordare, ma non esiste attualmente il nostro passato, esistono le conseguenze del passato che non è altro che il presente, l'adesso. Il passato esiste, come non esiste? Non esiste il passato. Ma perché non esiste? Io me lo ricordo. Ma esiste come ricordo, ma non è il passato. I miei ricordi sono il passato. Non esisteva. I miei ricordi sono il passato. 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 Chiara? Si, te lo sto facendo. A chi? A te. A me. Con quei denti. È un effetto digitale che sembra che è stato fatto negli anni 50. tipo come quando... Lancia la palla a papà. Lancia la palla a me. Sto parlando perché dopo si risente quello che dico. Capita che ancora non ha capito come funzionano le telecamere e mi chiede che cosa sto facendo. guardami qui. Guardami qui. Fammi ciao. Buon viaggio. Dopo lunga verose mattina siamo riusciti ad entrare nella gabbina. Noi dobbiamo andare nelle case di un po' sovraziata. Noi in crociera. Un po' sovraziata. isn't' Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.